Accompagnati dal Ministro per le Affari Regionali Francesco Boccia, sono atterrati questo pomeriggio all'aeroporto di Torino Caselle i primi 22 medici volontari che il Governo ha messo a disposizione degli ospedali piemontesi. Ad accoglierli il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Sindaco di Torino Chiara Appendino e il Prefetto di Torino Claudio Palomba. Presente anche il Vice Presidente della Regione Fabio Carosso e il Commissario straordinario per il Coronavirus in Piemonte Vincenzo Coccolo, che insieme all'Assessore della Sanità Luigi Cardi ha organizzato l'immediato operatività della squadra. Presente anche ad accogliere il Direttore Tecnico Operativo dell'Aeroporto di Caselle Lorenzo Guzman. I 22 medici volontari arrivano da varie parti d'Italia e andranno a sostenere gli ospedali del territorio. 7 prenderanno servizio all'ospedale Covid di Verduno, 1 a Cuneo, 7 a Torino e Provincia, 1 a Vercelli, 1 a Biella, 2 a Novara, 1 a Neverbano, 1 a Dasti e 1 a Alessandria. Sono specializzati in malattie infettive, anestesia e reanimazione, chirurgia generale, cardiologia, medicina d'urgenza interna. Siamo anche noi commossi perché non ci aspettavamo questa accoglienza, ha commentato uno dei 22 medici. Siamo venuti per lavorare e ci auguriamo di poter fare ciò che vi aspettate da noi.